Io vado al PAM a comprare, hanno aperto proprio oggi un nuovo centro commerciale. Andiamo tutti quanti al PAM PAM PAM! Vuoi sapere perché sono tutti così felici? PAM Panorama compie 60 anni e per festeggiare in ottobre regala 60 Fiat 500! Andiamo al PAM! Scopri l'iniziativa nei nostri punti vendita!